e view on facebook ciao ciao a tutti siamo tornati perché le vacanze sono finite ebbene sì mi sono fermata con c'è Lisa perché anch'io ho detto mi riposo quindi sono strafelice di essere qua perché insomma mi è mancata questa rubrica mi sono mancati tutti i vari argomenti che ho che assieme appunto grazie alla mia regia mobile grazie a Gioia che finché c'è qui la utilizziamo e che dire come sono andate le vostre vacanze le mie bene quantomeno mi sono rilassata però ripeto il fatto di essere qua vuol dire che abbiamo chiuso una porta quella del mare quantomeno molti di noi apriamo quella del dover ricominciare a fare tante cose bene cosa facciamo oggi intanto come stanno i vostri amici i cagnolini i vostri gatti voi lo sapete che il migliore amico del cane è Gianluca Comazzi eccolo qua buonasera ciao Gianluca come stai? ma guarda molto bene sono in regione al Pirelli eh ti vedo vedo le bandiere dietro che sventolano sì ma abbiamo fatto oggi abbiamo seguito alcune commissioni importanti tra cui c'è una vicenda che riguarda un comune della provincia dove stiamo difendendo un lago che di fatto si è creato con una grande biodiversità che ha proprio nel comune di Vimodorone e quindi insomma stiamo cercando di opporci a questo questo progetto che è il comune di Vimodorone cioè cosa vuole fare dopo ti presento perché praticamente vuole interrare un lago che c'è ormai da 50 anni che dove ormai c'è una biodiversità stupenda tanti alberi sono un polmone verbe e quindi è parte un parcheggio mi sto opponendo al comune di Vimodorone che vuole fare questo progetto davvero assurdo e Gianluca Comazzi si è opposto veramente un sacco un sacco un sacco di cose perché quando uno si oppone risolve con fare le cose belle allora io ve lo presento molti di voi lo conoscono Gianluca Comazzi consigliere regionale presidente FIBA bene allora voi dovete sapere che Gianluca io l'ho conosciuto che ho detto prima dieci anni ma sono di più saranno 15 anni fa che tu eri garante per la tutela degli animali è vero sì 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 bene ci siamo conosciuti in un periodo molto bello io avevo questa delega del sindaco di allora Letizia Moratti sì e abbiamo fatto tante cose belle per Milano soprattutto per nella mia delega per quanto riguarda i diritti degli animali pensiamo al parco canile di Milano che è questa struttura meravigliosa che sorge lì in zona Forlanini che ormai i milanesi conoscono bene che accoglie oggi cani e gatti abbandonati della città di Milano ma è una struttura molto bella con 35.000 metri di parco che ha salvato in questi anni tantissimi animali è un luogo dove i volontari si ritrovano le famiglie vanno da domenica insomma un canile diverso noi siamo abituati ad andare in un canile e quando usciamo abbiamo sempre il magone perché gli animali chiusi abbandonati non è mai bello e invece lì c'è una dimensione totalmente diversa con grandi spazi verbi gli animali escono beh poi è una zona là che si presta perché c'è tanto verde io infatti ero una di quella che era pianto da quel vecchio canile in Forlanini con in braccio un cagnolino ma ne avevo lasciati là tantissimi che bene bene non stavano tu ti occupi da sempre dei diritti per gli animali allora io direi entriamo subito proprio nello specifico entriamo nella tua grande passione che mi racconti un po' come è andata quest'estate soprattutto per quanto riguarda gli abbandoni ecco il tuo addetto stampa Andrea mi ha dato un po' di numeri diciamo che le cose forse sono andate un po' meglio poi tu hai fatto tante cose quindi parliamo un po' di loro parliamo dei nostri amici a quattro zampe allora come è andata quest'estate sì le vacanze sono purtroppo sempre un elemento negativo per i nostri animali perché c'è ancora purtroppo questa ricorrenza scellerata di abbandonare i nostri compagni di vita per fortuna insomma negli ultimi anni anche in Italia la sensibilità la cultura è migliorata e quindi il fenomeno dell'abbandono comunque ha subito un calo per fortuna grazie anche a molte campagne di sensibilizzazione al lavoro delle associazioni dei volontari e anche grazie alle nuove generazioni che per fortuna si sono un po' responsabilizzate dai sono un po' più sensibili ecco dopodiché c'è comunque ancora questa triste ricorrenza e quindi di abbandoni ce ne sono sempre tanti noi abbiamo una media oggi in Italia di circa 50.000 cani 80.000 gatti quindi sono davvero tanti anche i gatti vengono abbandonati in estate anche i gatti ma infatti noi in Lombardia abbiamo fatto un progetto di legge innovativo peraltro di cui sono stato promotore dove abbiamo finalmente reso obbligatoria l'iscrizione nella nagra felina dei gatti di proprietà perché fino all'anno scorso solo i proprietari dei cani erano obbligati a iscrivere il cane nella nagra dal primo gennaio 2020 mi pare giusto esattamente dal primo gennaio 2020 chi ha un gatto nuovo diciamo nel senso che quelli che hanno i gatti che avevano già il gatto lo possono fare su base volontaria invece da chi prende un gatto nuovo da gennaio 2020 è obbligato a microcipparlo e quindi noi stimiamo fra una decina d'anni che avremo tutti i gatti di proprietà ovviamente microcippati e quindi è un obbligo di legge e questo ci consentirà di evitare tanti abbandoni perché oggi il gatto ve lo riportate a casa quanto meno speriamo che dopo può essere punito esatto può essere punito anche come prevede la legge oggi sappiamo che l'abbandono è un reatto penale chiaramente che prevede fino a un anno di carcere e una multa fino a 10.000 euro troppo poco però insomma troppo poco troppo poco speriamo però veramente che li pagano senti Gianluca ma questi cagnolini questi cani anche grossi perché magari forse più facile che si abbandonino i cani di grossa taglia dove vanno? Tutti al parco forlato? no beh intanto diciamo che abbandonare un animale non soltanto un atto vergognoso e infame ma è anche molto pericoloso per noi tutti perché ogni anno si avvengono centinaia di incidenti stradali alcuni anche mortali proprio per colpa di animali abbandonati che attraversano la strada improvvisamente che creano degli incidenti quindi è molto pericoloso ragazzi ma sarebbe come avete un bambino un figlio piccolo dovete andare in vacanza e dici ma sì chi se ne frega prendi il tuo figlio e lo molli lì su un marciapiede ovvio che questo figlio bambino potrebbe attraversare la strada insomma si crea danni agli altri ma soprattutto voi abbandonereste mai un bambino perché lo fate con i cani e questa è la cosa che manda fuori di testa sì poi oggi guarda Lisa non ci sono nemmeno più non c'è più nemmeno l'alibi perché oggettivamente dai ormai ci sono tante strutture che accolgono gli animali alberghi spiagge quindi non c'è più nemmeno questa scusa che comunque non giustificava il gesto ma oggi non c'è nemmeno quest'alibi puoi portarla anche al lavoro oggi oltretutto mi pare si è stato tu ma sì ma ci sono tante pensioni ci sono i dog sitter ci sono perfino i cat sitter quindi davvero non ci sono scusanti no no sono d'accordo sono d'accordo e poi sai questi animali quando non si trova proprietario finiscono nei canili ma nei canili non tutti i canili sono come quello di Milano che abbiamo realizzato noi quindi i canili che è stato preso ad esempio tra le altre cose che è stato preso ad esempio anche a livello europeo sai ci sono delle strutture in alcune regioni d'Italia che francamente davvero sono pietose e soprattutto non abbiamo non abbiamo la certezza che poi trovino ancora una famiglia questi animali quindi sono spesso condannati a vivere tutta la loro esistenza poverini no 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 infatti quello è terribile senti aspetta però dobbiamo fare una cosa visto che c'è un sacco di gente che ti vuole bene che ti segue allora salutiamo un po' salutiamo gli amici vabbè ciao Luigi è un fan Luigi ci segue sempre Gioia Carla Matteo ecco sì sì ci siamo finalmente e poi una tua grande fan Patrizia Shapira il mio mito un grande l'unica persona seria che ama gli animali è vero un abbraccio Patrizia un abbraccio una grande amica una grande amica anche Ale ciao Ale sì sono troppi dice che si abbandonano anche i conigli ti adora anche Paola Pigotti Paola abbiamo anche Roberto Boffi grande dottore grande medico grande pneumologo grande pneumologo ecco grande pneumologo che noi abbiamo premiato a Milano con l'ambrogino d'oro ed è un grande medico che rende onore alla categoria e che soprattutto è una grande eccellenza l'istituto tumori di Milano dove il dottor Boffi lavora esatto con grande attenzione perché è quella che dovrebbe mettere chiunque fa una professione ma anche quella di adottare un cane alla fine diventa una professione diventa una sorta di mamma di un papà di un genitore quindi tornando a bomba lì bisogna proprio Gianluca prendersi cura intanto dei nostri animali ed avere un comune ed avere una regione una regione che comunque ci aiuti anche ad andare incontro quindi a facilitarci quelle che sono magari le situazioni che generalmente potrebbero accadere quindi sui tram sei stato tu a far sì che non si paghi più il biglietto ai nostri amici giusto? Sì noi abbiamo guarda nel tempo abbiamo fatto una serie di modifiche soprattutto nella città di Milano ma insomma adesso io che ho anche questa responsabilità di consigliere regionale ho l'opportunità la legge di cui ti parlavo quella dell'obbligo dei microchip anche per i gatti l'abbiamo fatta proprio in Regione Lombardia come un'altra legge che io ho fortemente voluto che è davvero un riconoscimento simbolico per i nostri amici a quattro zampe è la possibilità di dare che diamo noi comuni di modificare il loro regolamento sui cimiteri per dare la possibilità di scoprire i nostri animali nelle nostre tombe di famiglia perché di fatto gli animali sono una parte importante della nostra vita delle nostre famiglie e quindi non vedo perché se una famiglia ha questo desiderio di diciamo soppellire di tumulare i propri animali di stare ancora tutti insieme di stare ancora una volta tutti insieme come componente della famiglia e quindi insomma nel tempo abbiamo fatto tante cose belle oggi Milano ricordiamo che è una città è la città con più aree cani in tutta Europa abbiamo quasi 500 aree cani quindi davvero è una città che offre dei servizi certo poi il comune dovrebbe fare un po' più di manutenzione agli aree cani perché non sempre viene fatta perché non sempre ci sono solamente i cani soprattutto qui in piazza Portello i cani non ci entrano perché ci sono i signori che dormono sulle panchine e fanno ben altro però questo è magari non devo parlarne con te o magari invece sei proprio guarda il degrado che c'è a Milano nelle città è evidentemente sotto gli occhi di tutti sicuramente lì ci vuole anche un po' più di educazione civica perché ci vogliono i controlli la manutenzione dopodiché ciascuno di noi deve vivere la propria vita con responsabilità e con educazione civica in questo caso parliamo di persone che non hanno una fissa dimora perché saranno magari arrivati da altri paesi scendono e sono andati ad abitare lì in quel giardino ma certo guarda queste persone andrebbero aiutate perché questo è il compito del comune dei servizi sociali dei comuni aiutate queste persone a reinserirsi e quindi si potrebbe aprire una lunga pagina infatti diventa troppo lunga con tanti alloggi popolari liberi con tanti alloggi popolari liberi qua sotto casa quindi voglio dire va bene aiutiamoli però dobbiamo aiutare anche noi cittadini insomma un po' per uno io ho paura a portare giù il cane perché non posso portarlo lì perché lì adesso è casa di qualcun altro bisogna stare un po' attenti però giustamente bisognerebbe venirsi incontro allora una cosa bellissima che vi già ti fanno è quella del cimitero è quella di poter riposare per sempre con i nostri i nostri i nostri cani il nostro gatto ecco ma solo a Milano oppure dove? no no allora questa legge è regionale quindi vale su tutto il territorio lombardo e quindi ogni comune può diciamo modificare il proprio regolamento e quindi anzi tutti i cittadini di questi comuni devono sensibilizzare il proprio sindaco eccetera a Milano invece io ho fatto un'altra cosa molto bella mi ricordo una lettera bellissima che aveva scritto una cittadina di Milano a cui era appena morto il marito e a Milano era vietato entrare con il proprio cane nel cimitero chiaramente parliamo di un cane al guinzaglio quindi tenuto sotto controllo non un cane che gira come gli pare e mi ricordo che questa cittadina mi aveva scritto ringraziandomi perché avevamo consentito avevamo dato la possibilità nei cimiteri di Milano di entrare anche con il cane al guinzaglio perché mi aveva scritto perché questo cane era stato proprio un regalo di suo marito e quindi voleva portarglielo a provare con il suo cane però era da un punto di vista affettivo molto importante quindi insomma sono dei piccoli traguardi di civiltà che credo che una città come Milano che è una città fortemente europea e internazionale debba assolutamente avere beh io direi che tu di piccoli traguardi dico piccoli perché hai detto tu ma sono grandi ne hai fatti tanti cioè tu veramente in questi 15 anni perché occhio e croce credo siano 15 che ti dedichi a loro hai fatto veramente hai mosso hai mosso tante tante seggiole perché magari chi non si voleva muovere da lì ecco tu gli hai detto guarda in quella direzione poi so che stai chiedendo anche dell'altro sai Lisa la cosa importante è raccontare l'importanza di poter fare delle cose attraverso le istituzioni quando io sento tante persone demotivate che dicono non crediamo nella politica non crediamo non andiamo a votare eccetera io dico sempre a queste persone che se non vanno a votare ci va qualcun altro che decide anche per loro e quindi le istituzioni sono fondamentali io faccio porto avanti delle battaglie dentro le istituzioni ma ci sono tantissime persone che fanno un lavoro grandioso e lo fanno con attività attraverso le associazioni attraverso il volontariato attraverso ognuno anche i veterinari ci sono dei veterinari che aiutano per esempio alcune persone che sono in difficoltà economiche cioè ognuno di noi può fare il suo all'interno della propria professione della propria vita quindi ognuno deve avere il suo ruolo e se tutte queste componenti vanno assieme ecco che le battaglie si vincono si vincono bravo si vincono le battaglie l'isla negli anni è stato soprattutto quello di creare una grande comunità di persone che oggi che io oggi ho la fortuna di guidare che davvero mi hanno sempre sostenuto mi hanno sempre dato anche tanti voti ma anche con grande affetto con grande supporto perché tu sei uno tu sei uno di quelli che si vede che quello che fai lo fai veramente con il cuore lo fai credendoci e lo fai perché ti stai occupando di qualcuno e infatti tu ti sei occupato parliamo anche parliamo anche di lui allora questo si chiama Antonio ecco dai voglio far vedere un po' ecco chi è Gianluca Comazzi che non sono esatto tu non fai parole tu fai i fatti e infatti questo è Antonio ma questa è una bella storia guarda mi ha chiamato queste storie ma insomma è uno dei tanti cani poi questa è una storia che io ho scelto ma questa questa storia è molto bella un'amica che era in vacanza a Messina in Sicilia aveva trovato questo cane abbandonato viveva in uno sterrato vedete che il colore del pelo del cane è uguale più o meno a quello della terra quindi questo cane era invisibile non lo vedeva nessuno questa mia amica l'ha notato e ha iniziato a dargli da mangiare e da bere e viveva in questo sterrato peraltro aveva anche un segno al collo perché si vede che qualcuno lo teneva alla catena e questo cane si era liberato e allora mi ha detto come faccio Gianluca sono qua non riesco a portarlo su perché non ho lo strumento non ho l'automobile eccetera e allora mi sono adoperato con alcuni volontari meravigliosi siciliani l'abbiamo salvato l'abbiamo fatto portare a Milano è arrivato proprio l'altro giorno sono andato ad accoglierlo infatti con la sua nuova famiglia questa è la nuova famiglia che lo ha adottato la Marina lei si chiama Marina con il compagno e lo hanno adottato ed è un cane meraviglioso un cane equilibratissimo dolcissimo buonissimo è un cane che purtroppo sarebbe morto perché guarda il randagismo soprattutto in molte regioni del sud ancora è un grande problema è una piaga è una piaga e la colpa è delle istituzioni dei comuni e delle asl di queste regioni che non sterilizzano gli animali e quindi ci sono questi cani che vagano ovviamente sul territorio nessuno se ne occupa a parte qualche volontario diciamo che che fa un lavoro miracoloso e purtroppo sono animali che poi finiscono per morire no ma infatti a me fa molto piacere hai nominato i volontari abbiamo qui Patrizia Shapira che è una tua grande fan proprio perché lei proprio anche con con i paesi giù del meridione so che lei si attiva con le volontarie fanno le staffette e arrivano cani uno l'ha chiamato Salvini uno l'ha chiamato insomma in tutti i modi però questo per dirti che è bellissimo questo gemellaggio che c'è fra il meridione e il nord dove andiamo anche a salvare dove si dà la possibilità di avere delle nuove vite tipo Antonio ecco tipo Antonio questo meraviglioso cagnolone che adesso qui l'han lavato guarda si vede si vede pure si ma è uno spinone stupendo guarda ma è giovane c'è un paio d'anni peraltro per fortuna abbiamo testato era anche negativo alla lesmagnosi che sappiamo che è una malattia che colpisce e invece devo dire che per fortuna il canno era sano stava bene e quindi insomma siamo riusciti a e quindi uno l'abbiamo salvato ma non è solo più di uno esatto aspetta perché insomma questa è un'altra storia questa è chicca qui invece facciamo un passo indietro parliamo del covid tanto per rimanere attuali sul tema cos'è successo racconta tu guarda questa è una delle tragedie delle tragedie purtroppo questa pandemia ci ha portato via tante persone che sono che sono morte in tutta Italia ma ahimè anche soprattutto in Lombardia e il proprietario di chicca questo cagnolino che vedete che è un cane anziano perché è quasi record mi pare avesse sui 16 anni quindi un cane davvero che figura figurati era abituato era legatissimo al suo padrone è morto è morto per il covid il suo proprietario e quindi questo cane si stava lasciando morire di stenti perché doveva andare in canile e quindi non avrebbe resistito al il destino era segnato era segnato abbiamo trovato per fortuna una bella famiglia dello stesso comune dove abitava questo signore che l'ha adottata e incredibilmente il cane comunque ha avuto una reazione positiva per fortuna si è inserito bene ma che bello dai gli ultimi anni ecco gli ultimi anni insomma della vita di questo cane lo passerà comunque in famiglia vorrà bene avrà troverà anche la possibilità di amare qualcun altro sì ma sono le storie guarda Lisa ecco dimmi vediamo che altra storia questa mi è piaciuta tantissimo Giuditta l'ha scambiato per un lupo anche perché so che tu avevi il cecoslovacco dopo lo insomma che è mancato da poco eh sì la mia luna purtroppo la mia luna vabbè però la storia di Giuditta l'ha scambiata per un lupo ma questa è una storia pazzesca questo è un lupo cecoslovacco che è stato scappato da una casa lì nel pavese e l'hanno scambiata per un lupo vero perché in effetti la somiglianza è molto forte e quindi cosa succedeva che questo cane poveretto da un mese e mezzo scappava cascina per cascina per sfuggire alle ronde dei cacciatori ma anche alle ronde di persone che pensavano fosse un animale pericoloso anche se fosse stato un lupo le ronde sarebbero state sbagliate ma a maggior ragione è figurare se è un cane poveretto che era impaurito e poi si è scoperto che era un lupo che era scappato da una casa di una casa esatto però è un cane che davvero bisogna dargli una medaglia a questo cane perché per un mese e mezzo è riuscito a sopravvivere anche sai la fame e la sete comunque non è facile è dura ma è tornato dalla famiglia proprio no beh sì poi è stato recuperato e poi è tornato dalla famiglia quindi sei riuscito a individuarlo si è scoperto che non era un lupo selvatico è tornato dalla famiglia ma c'aveva una mamma e un papà insomma forse anche dei fratelli sì sì è stata ricostruita la storia meno male esatto ma queste storie guarda sono storie di tutti i giorni questa è la mia luna che insomma è sempre nel mio cuore peraltro devo dire che era diventata un po' una mascotta anche di tante persone e insomma e mi ha sempre portato fortuna ha sempre fatto tutte le campagne elettorali con me e purtroppo è mancata da qualche mese e insomma aveva 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 era anzianotta aveva 15 anni per un lupo non sono pochi sono tanti vuol dire che stava bene con te vuol dire che l'hai tenuta bene sì ma insomma non è mai facile guarda quando poi ti manca tu lo sai Lisa perché ami gli animali come me quando ti manca il tuo animale che è un componente della famiglia dopo tanti anni che che vivete assieme giorno dopo giorno eccetera è un dolore davvero sempre no ma infatti quello che mi chiedo è quando non so tra virgolette ti muore il gatto ma che hai ti è morto il gatto sì è morto il mio gatto e va bene prendi un altro però non funziona eh no non funziona guarda ci sono persone ma io stesso a volte mi scrivono adotta il cane ma non è facile perché ognuno di noi deve avere il suo tempo anche per elaborare non ce ne hai più adesso ma io mio fratello ha un a un jack russell ma io ho difficoltà oggi a volte mi mandano questi appelli di lupi cecoslovacchi eccetera cerco di aiutarli ovviamente in altro modo per trovare le adozioni in famiglia ma quando ti muore il cane insomma non è facile sì però io credo che invece in molti casi faccia bene introdurre presto in famiglia un introdurne uno nuovo poi ripeto è proprio la discrezione dell'altro è un po' la sensibilità la reazione che ciascuno di noi ha chiaramente però insomma io ho la fortuna di avere tanti cani perché tutti i cani che salvo che aiuto eccetera sono un po' come se fossero i miei cani esatto e infatti nel momento del bisogno nessuno deve essere lasciato indietro questa penso sia tua la FIBA questa è una campagna che abbiamo fatto come FIBA io sono presidente di questa associazione che è la Federazione Italiana Benessere Animale che si occupa appunto con tanti volontari in tutta Italia devo dire di aiutare appunto i nostri amici a quattro zampe però è vero nessuno deve essere mai lasciato indietro Gianluca no ma infatti la battaglia sui diritti degli animali è una battaglia di civiltà che segna anche la qualità e la sensibilità di ogni paese cioè i paesi che riescono ad avere delle regole delle leggi che difendono gli animali sono dei paesi di solitamente evoluti e le persone che amano gli animali sono solitamente persone che amano anche gli uomini perché guarda c'è uno studio molto interessante fatto qualche anno fa dall'ordine degli psicologi che racconta proprio questo cioè laddove c'erano delle violenze domestiche quindi in casa tra per esempio scusa che intanto mi era suonato il telefono prego laddove c'erano ci sono delle violenze domestiche per esempio sulle donne sui bambini eccetera quelle persone che sono state violente nei confronti degli esseri umani precedentemente avevano dei casi di violenza e di maltrattamento nei confronti degli animali quindi è un'equazione una conseguenza quasi matematica fanno pratica su di loro la verità è questa la gente è cattiva fa pratica sull'animale e poi dopo si evolve il clou si manifesta poi magari proprio anche all'interno della famiglia quindi veramente quando voi incontrate qualcuno che vedete che è cattivo con un animale dovete cominciare a tirare un po' le somme perché sicuramente è una persona che o va aiutata perché comunque magari Gianluca anche lì perché non lo so magari va anche aiutato non solo il cane con dei problemi magari anche la persona senti io ti immagino che sei no 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 dicevo mi stavo seguendo no certamente è così cioè ma è un fatto scientifico nel senso che guarda l'abbiamo visto in questi vet market questi questi mercati che fanno anche in Cina eccetera c'è il festival di Yulin ma sono delle cose atroci ragazzi ma non esimo la civiltà e l'uomo deve iniziare a difendere a combattere per difendere questo pianeta l'uomo si deve vergognare altrimenti sai Lisa ai nostri figli alle generazioni future che cosa lasciamo un pianeta distrutto che alla fine ci tornerà tutto indietro stavo cercando una cosa che mi interessava però tanto me la ricordo sì tu ad agosto poi hai lottato anche per per quell'usanza che hanno i musulmani di sgozzare gli animali per la festa del dello sgozzamento giusto ma sì perché il comune di Milano ha fatto spallucce mi pare mentre tu invece ti sia rimboccato le maniche sì perché il comune di Milano ha dato per questa festa che si chiama festa del sacrificio il Palasharp che è un luogo molto famoso diciamo di ritrovo a Milano una volta si facevano i concerti e sai purtroppo a Milano ci sono tanti casi anche nei sottoscala in alcune case popolari eccetera di persone che praticano questa terribile usanza nei confronti degli animali e io penso che insomma in Italia si debbano seguire delle regole e le leggi che abbiamo qui in Italia quindi da noi non è possibile per fortuna sgozzare gli animali lasciandoli morire dissanguati e quindi non vedo perché se tutti rispettiamo queste regole alcune persone non debbano farle in nome di usanza di un rito che francamente non ci sostiene infatti cioè io capisco quello che sì dietro magari c'è anche proprio un discorso anche più salutistico perché la carne in quel modo rimane più pulita insomma però ragazzi non si fa ma guarda sono tutte sì sì è veramente è una cosa talmente no no per me no io non sono d'accordo comunque no no infatti noi abbiamo fatto la voce grossa anzi io dico sempre a tutti i cittadini segnalatemi se vedete dei casi di violenza su qualsiasi animale a Milano in Lombardia perché ovviamente sono sempre pronto a intervenire chiedeva Daniela Bianchi prima adesso vediamo se la rivedo comunque l'ho letto prima il suo commento ciao Daniela chiedeva ma ciao Dani abbiamo collaborato insieme tanti anni fa anche con lei nel momento in cui uno trova un randaggio nel momento in cui uno trova un cane che ha bisogno chi chiama come si attiva come vi attiva ma allora diciamo intanto una cosa la legge nazionale 281 del 91 che la legge quadro sul randagismo cosa dice dice che qualsiasi animale vagante sul territorio è di responsabilità del sindaco di quel territorio quindi se c'è un cane che vaga o un gatto che vaga in una città che sia Milano che sia qualsiasi città che volete il sindaco è responsabile di quegli animali quindi in teoria la polizia locale è chiamata a rispondere dopodiché sappiamo purtroppo che non sempre così perché la polizia locale a Milano fatica a uscire in quanti casi delle persone che chiedono quando li chiamo io che mi volevano fare del male qua sotto quindi insomma non sempre facile però diciamo bisogna chiamare la polizia locale e ricordare che è un loro dovere ed è un obbligo di legge anche perché se poi dovesse succedere qualcosa visto che solitamente gli animali avvistati in città sono animali che vagano per le strade quindi dovesse accadere qualche incidente eccetera e beh poi comunque la responsabilità è loro la responsabilità è del sindaco Sala in questo caso giusto cioè in Milano c'è lui ecco detto il nome perché è il nostro sindaco allora ho un'altra cosa da chiederti prima che mi passi di mente perché non ho la foto però mi raccontava Patrizia di un altro caso straordinario ovvero un cagnolino che era stato fermato in un altro stato che volevano sopprimerlo tu invece sei riuscito Pati aiutami ricordami il nome del cane tu sei riuscito a riportarlo a casa lo volevano ammazzare perché avevano paura forse potesse attaccare il covid a qualcuno ma sì questo era un caso di un cane di una ragazza che rientrava dalla Cina aveva fatto scala in Finlandia e per una serie di documenti che pensavano mancassero ma poi che c'erano il cane praticamente non poteva partire e quindi rischiava di essere abbattuto per fortuna la vicenda si è risolta positivamente e la ragazza è tornata in Lombardia con il cane guarda questo è successo anche in un altro paese qualche anno fa in Danimarca dove per esempio i dog argentini è una razza considerata e vietata in quel paese e quindi questi cani nel momento in cui entrano sul suolo di quel paese vengono automaticamente abbattuti quindi non è che stanno a vedere se il cane è bravo è cattivo eccetera quindi bisogna stare sicuramente molto attenti quando si viaggia informarsi bene anche sulle regole che ci sono le leggi negli altri paesi dopodiché dopodiché ovviamente sono leggi che io non considero diciamo delle buone leggi perché non si basano in alcun modo su nessuna nozione scientifica perché non c'è scritto da nessuna parte che una razza sia più pericolosa di un'altra ti stai battendo anche per questo so che ti stai muovendo anche su quella su quell'elenco di razze denominate cattive e anche tu insomma vuoi far sì che questo non accada più sì questo è un provvedimento che io ho contrastato nel senso poi con il Milano vabbè io come sai a Milano in Consiglio Comunale sono all'opposizione ma insomma alcuni anni hanno fatto questa scelta di rendere obbligatorio questo patentino per 27 razze io ho contestato cosa non tanto il fatto che il Cunimilano possa decidere di fare della formazione ai cittadini che hanno un cane perché ben venga la formazione fatta no soprattutto se è gratuita perché poi in realtà il patentino costerà pure ai cittadini quindi è una nuova tassa che di fatto è stata introdotta ma io ho contestato la questa elenco di questa lista di proscrizione di elenco di razze che vengono discriminate senza motivo scientifico di questa cosa già questo errore l'aveva fatto già il ministro turco tanti anni fa quando ha fatto questa lista anche il mio Alano nelle cagliariche allora non si capisce come mai cioè tu devi fare una cosa che intanto abbia una base scientifica guarda se tu vai a vedere i morsi dei cani scopri che il barboncino è un cane morsicatore molto più non lo so di un cane corso che invece sembra che sia un cane particolarmente cattivo quindi non si può fare una discriminazione alcune razze sono dare un messaggio profondamente sbagliato sono d'accordo gli animali possono essere aggressivi o meno certo alcuni hanno una loro aggressività che va in qualche modo sfogata ma conta molto anche il contesto ambientale l'educazione con i quali con i quali cane viene cresciuto è chiaro che se io ottengo un cane che sia un barboncino che sia un pitbull lo cresco ho sempre la catena non gli do da mangiare sarà un cane che diventa aggressivo ma la colpa è dell'uomo non è di certo di quel povero cane quindi è una scelta questa del patentino sbagliata perché si proprio si basa esatto a targhettizzare una cosa che sarebbe un po' improbabile va bene senti allora ultima cosa se è l'opposizione l'hai detto cosa so che voi state presentando un documento proprio su tutto quello che non è andato bene nel momento del coronavirus ne parlavano anche stamattina no beh io ho la fortuna guarda di essere ad opposizione in consiglio comunale a Milano ma di governare invece in regione Lombardia dove noi siamo maggioranza noi in regione Lombardia abbiamo presentato un documento che manderemo al presidente della repubblica dove in maniera non faziosa e non polemica ma abbiamo ricostruito in maniera oggettiva tutti i fatti dall'inizio della pandemia fino ad oggi che sono accaduti nella nostra regione andando a evidenziare le gravi lacune e mancanze di questo governo che di fatto ha lasciato da sola la regione Lombardia basti pensare che il presidente del consiglio si è degnato di venire e di notte come se fosse come se si dovesse nascondere in Lombardia è venuto un mese e mezzo dopo lo scoppio della pandemia quando invece dovrebbe dovuto testimoniare supporto dello Stato addirittura facendo il consiglio di ministri per esempio in Lombardia o Milano e quindi noi abbiamo segnalato al presidente della repubblica che invece c'è sempre stato vicino ricordiamo che il 2 giugno ha scelto proprio come luogo simbolico del dolore Codogno dove venire appunto a testimoniare la propria vicinanza e allora gli chiediamo di valutare qualsiasi iniziativa che lui possa fare per individuare le responsabilità gravi di questo governo che sono molteplici e che stanno venendo fuori da questi verbali del comitato scientifico che peraltro hanno pure nascosto adesso li stanno piano piano desecretando ma insomma è molto grave che non ci sia stato nemmeno un meccanismo di trasparenza e di comunicazione nei confronti dei cittadini è stato molto grave sono d'accordo cioè noi poiché eravamo qua noi in Lombardia l'abbiamo proprio vissute in prima persona possiamo proprio testimoniare che non sono state fatte molto bene le cose però invece tu stai facendo tutto molto molto bene senti io so che devi andare via e che dire io ti ringrazio per questo io ho iniziato ho riaperto con te la mia rubrica ma Lisa guarda grazie perché mi hai onorato davvero di questo invito e a cui ho partecipato davvero con piacere intanto perché ti conosco da tanti anni ma se per me sono tanti sei una giornalista seria sei una persona preparatissima io mi ricordo anche quando conducevi delle trasmissioni bellissime in televisione e l'hai sempre fatto con con grande professionalità e poi ami gli animali e quindi non possiamo che andare d'accordo certo ma noi andiamo d'accordo infatti poi tornerò a ragione così mi offre vieni a trovare quando vuoi aspetta sto lì che ti faccio vedere quanto sei bellino ragazzi guardate Gianluca quando quando ci difende ecco lui è così avevo ste foto ho detto facciamole io ero particolarmente arrabbiato ero in consiglio comunale sicuramente mi avevano fatto arrabbiare per qualcosa bravo ma noi che abbiamo te dormiamo tra due conciali va bene grazie a tutti per essere saluto a tutti è venerdì alle 19 con l'avvocato massimiliano cattano che rimaniamo a parlare di temi sociali referendum insomma a tutti questi temi un po' un po' spessi eh Gianluca però mi raccomando ti seguirò ti seguirò ok un abbraccio ciao a tutti ciao Lisa grazie ciao a tutti grazie